Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi ma proprio sul canale nel vero senso della parola e vi porto qualche informazioncina ragazzi allora qui ragazzi non si sa che cazzo ho creato ho creato un video di 12 minuti ma non me ne ero accorto che mi era rimasto l'overlight attivo quindi ragazzi non pensate che l'ho fatto intenzionalmente per per monetizzare perché come avete visto durante il video non c'è pubblicità comunque passiamo al video che vi volevo dire allora nell'ultimo video che ho caricato oggi che è questo qui ci sono dei link nuovi ragazzi dei link nuovi che vi consiglio di aprire allora c'è una nuova home page ragazzi di G2A Home che sarebbe questa qui voi cliccate qui e andrete su l'home page G2A.com Maxi Milk Youtube allora ragazzi una cosa che vi voglio dire su questo sito c'è veramente tantissima roba se voi vedete tutto quello che io ho scritto qui insomma tutte le varie cose c'è veramente tanta roba scontatissima però adesso andremo a vederla insieme allora per prima cosa ragazzi quando andate nel sito registratevi registratevi con il link che vi ho appena mandato vi registrate cioè che vi ho appena fatto vedere andate sul sito e avrete la possibilità di poter scegliere tantissimi prodotti ragazzi come state vedendo ci sono veramente tantissimi prodotti è tutto super scontato ragazzi tutto super scontato quindi andiamo a vedere un qualcosina ragazzi per esempio qui abbiamo il gaming abbiamo parecchia robina di gaming vabbè lì ci sono i punti di valuta e tutte queste cazzo dei cosette per esempio abbiamo i giochi di azione come vedete qui abbiamo GTA la Steam Key di GTA 14,99 euro abbiamo delle stinchia abbiamo parecchie cosine quindi io vi consiglio sinceramente di farci una visita perché comunque come vedete i prezzi sono veramente scontatissimi ragazzi un qualcosa di allucinante io adesso vi farò vedere solo qualche pagina non è che sto qui a farvi vedere il tutto perché se no ci famo notte ragazzi però come potete vedere i prezzi sono veramente bassissimi ma un qualcosa di assurdo come ho già detto poi ci sono comunque tutte le quante le varie categorie come dicevo avventura cooperativo e tutto il resto insomma quindi voi dovete scegliere la vostra la vostra categoria quello che vi interessa vedete picchiaduro insomma c'è un sacco di roba c'è veramente un sacco di roba avrete dei filtri avete delle cose insomma qui potete filtrare tutto quello che volete per esempio su giochi di Steam oppure Xbox mettete solamente Xbox e qui vi darà tutto quello che concerne Xbox per esempio vedete su Xbox Rocket League Xbox Live Key qui che il Global ha 12,43 euro insomma c'è veramente tanta bella robetta ragazzi che dire che dire hanno veramente delle belle cosine da poter acquistare addirittura delle Shark Card la Tiger Shark che è della Rockstar che comunque vi dà 200.000 qui la pagate veramente una cagata la pagate 4 euro mentre mi sembra che su Rockstar mi sembra che costi 7 euro insomma a parte questo ragazzi poi ci sono tante altre cosine come vi dicevo basterà andare sulla vostra categoria per esempio andiamo su PSN su PSN abbiamo tante cosine anche qui ragazzi giochi PSN cioè ragazzi veramente ma chi cazzo per i tasti giochi a questi prezzi ok questo qui l'hanno regalato poco tempo fa però comunque ci sono altri giochi che sono veramente a prezzi competitivi ragazzi The Witcher 3 insomma c'è tanta bella robetta che secondo me vale la pena comprare ovviamente come ho già detto poi siete voi che stabilirete quello che comprare quello che non comprare però devo dire che i prezzi sono molto 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 competitivi ragazzi parliamoci chiaro c'è veramente parecchia roba parecchie cose io adesso sto scorrendo per farvi vedere in linea di massima che cosa c'è però secondo me troverete la terra che vi regge secondo me quindi dovete solamente cercare poi abbiamo non so come ho già detto Xbox PSN Steam abbiamo Origin account Origin cioè account scusate giochi di Origin quindi potremo scegliere tutto quello che vogliamo se giochiamo da PC come con Steam come con Origin e tutto il resto poi qui ragazzi abbiamo l'elettronica per non parlare dell'elettronica abbiamo cose carine a un prezzo secondo me abbastanza concorrenziale con tanti altri cioè ci sono delle cose veramente carine basterà semplicemente andare sul sito e guardare come ho già detto ragazzi registratevi con con il link che ho nella descrizione e che metterò anche in questa descrizione troverete il link con scritto home vi registrate e potete vedere tutti i prodotti comprare se qualcosa vi interessa e tutto il resto quindi ci sono veramente veramente tantissime cosine ragazzi che io penso che parecchie cosine le comprerò insomma come vedete c'è Xbox One console skin ragazzi sono degli sticker per i controller per la console e altre cazzate varie a 6,95 euro è uno skin della Ferrari ragazzi insomma andiamo a vederlo bene vedete che è carino che è veramente bello cioè secondo me vale la pena comunque comprarlo anche perché io adesso l'ho chiusa la pagina ragazzi c'era 7,49 euro da un altro sito perché io purtroppo non purtroppo bene per me male per chi non l'ha ha un'app qui sul diciamo sul browser che mi avvisa quando un prodotto è scontato da una parte o costa di più dall'altra e cazzate varie insomma per farvi vedere adesso ne clicco uno clicchiamo qui per esempio qui non mi riporta nulla quindi il prodotto è buono diciamo come prezzo comunque sia guardate ragazzi perché ne vale veramente la pena secondo me come ho detto vale veramente la pena qui abbiamo Xbox One Pro Dual Calling Fan che comunque è una combo di tre porte USB per poter caricare per poter fare insomma tutto quello che ci serve ci sono veramente tantissime cose ragazzi io sono passato alla pagina 48 ma ci sono tantissime pagine da visitare tantissime cose da vedere c'è di tutto di più ragazzi delle cuffie che comunque sono buone anche per PS4 vedete poi sono una cuffia militare come avete appena visto c'è parecchia roba ragazzi poi per non parlare di GIF card qui abbiamo le GIF card gaming wood music shopping e altro insomma abbiamo parecchia robetta abbiamo per esempio music abbiamo iTunes insomma c'è tanta 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 di quella roba Spotify c'è veramente tantissima roba io adesso vi passerò sugli abbonamenti perché questa è una cosa che veramente mi ha stupito ragazzi veramente mi ha stupito cioè abbonamenti per Xbox Live Gold per un anno ragazzi a 34,84 euro poi ci sono altri abbonamenti allora come vedete ragazzi ogni tipo di abbonamento ha la sua bandierina ok quindi vedete per esempio questo non andrebbe bene per noi perché è per America e tutto il resto Nord America diciamo e quindi dovremo cercare quello che è più idoneo ai nostri consumi come vedete qui abbiamo un PlayStation Plus per 90 giorni 3 mesi ragazzi a 11 euro e 90 cioè 11 euro e 60 scusatemi ragazzi roba da matti roba da matti vi parlavo prima il live del PlayStation Plus di un anno ragazzi cioè sono scontati 49,41 poi dipende sempre dalle offerte che ci sono ragazzi quindi l'unica cosa che dovete fare è entrare e valutare ragazzi perché comunque allora qui per esempio me lo dà a questo prezzo dove cazzo è che sta 365 giorni PlayStation Plus Card Italy cazzi e mazzi a 49,78 euro ragazzi mentre sul link che io ho messo un anno di PlayStation se ci cliccate sopra almeno che la no è scaduta anche qui è scaduta anche qui la la promozione comunque ragazzi fino a ieri stava a 41 euro e basterà andare qui e avrete degli sconti avrete degli sconti assurdi l'unica cosa che dovete fare come ho già detto è registrarvi una volta che vi siete registrati al sito potete fare tutto quello che vi pare vedete playstation plus trial card nord america ok questo a noi non ci interessa però comunque sia abbiamo molte opportunità molta opportunità di scegliere per tutti quanti i vari paesi del mondo quindi c'è di tutto ragazzi c'è di tutto come ho già detto si può fare qualunque cosa su questo sito e comprare soprattutto qualunque cosa come ho fatto vedere abbiamo cioè abbiamo parecchia roba che altro dirvi ragazzi veramente ci sono addirittura software antivirus per pc business office design illustration driver utility c'è di tutto ragazzi c'è di tutto non c'è solamente quello che che abbiamo visto io adesso qui non sarei a farvi vedere il tutto perché comunque c'è veramente tanta roba però per esempio computer e software abbiamo anche la telefonia abbiamo parecchia roba ragazzi veramente parecchia roba quindi l'unica cosa che vi consiglio come ho già detto è di registrarvi e di andare a vedere perché se non vedete non non sapete insomma non sapete che cosa vi state perdendo vedete qui abbiamo delle attrezzature per quanto riguarda la fotografia per quanto riguarda tante cose insomma magari se avete bisogno di una telecamera una videocamera un una qualunque cosa per poter riprendere diciamo le vostre le vostre live fare una facecam per esempio da pc qui troviamo di tutto come vedete 30 euro e 50 insomma ci sono prezzoni da paura secondo me molto competitivi a livello di mercato quindi che altro dire ragazzi veramente nulla perché veramente nulla c'è da dire su questo sito mi raccomando cliccate sul link che vi lascio in descrizione su questo link ragazzi ok g2a home dove c'è scritto http www g2a com slash r slash maxi milk youtube entrerete tramite tramite me su questo sito e avrete tantissimi sconti ragazzi avrete tantissimi sconti quindi io vi consiglio semplicemente di approfittare magari non dovete stare lì tutti i giorni a comprare però insomma c'è c'è parecchia robina da comprare secondo me c'è parecchia robina da comprare e secondo me vale veramente la pena poi ecco come ho già detto qui ci sono delle playstation gift card da 20 euro strascontate e tutto il resto basterà cercare dovete solamente cercare ma andate per categoria e cercate quello che vi interessa di più ragazzi detto questo io vi ho fatto una rapida carrellata di tutto quello che diciamo contiene questo questo sito e di tutto quello che vi può offrire come ho già detto ha anche roba da computer come vedete c'è kaspersky c'è l'anti malaware che è malaware c'è 4 ore 83 ragazzi tante volte non vale neanche la pena craccarlo perché sinceramente non vale manco la pena craccarlo perché poi magari vi da problemi come vedete c'è norton c'è un sacco di roba ragazzi c'è veramente un sacco di roba e io penso che un po di acquisti per me li farò li farò perché mi interessa qualcosina perché comunque ci sono parecchie cosine che mi possono interessare e magari potrei trovarle a prezzo scontato vi auguro anche a voi di fare dei buoni acquisti e di trovare quello che vi interessa di più su questo sito per quanto riguarda l'informatica per quanto riguarda il gaming per quanto riguarda l'elettronica ragazzi e tutto ciò che che state cercando insomma come ho già detto fate degli buoni degli buoni sto diventando come dark creature ragazzi è una cacciara ragazzi pure quando non lo sento divento come lui incomincio a farla come lui comunque fate dei buoni acquisti detto questo un saluto a tutti ragazzuoli e al prossimo video non mancate per il prossimo video perché vi annuncerò il prossimo contest quindi mi raccomando rimanete connessi ciao a tutti belli